Bella raga e bentornati in un nuovo video Stavolta Giochiamo ladder E quindi cosa si fa in ladder? Si tilta Esatto Vabbè dai vediamo come va Ho perso tre partite in fila prima E mi rode, mi rode tanto Però Può succedere Sono cose che capitano sai Ok magari siamo contro arco Se è il mirro di arco Eh però non puoi partire così Altrimenti ti butto questo Madora raga Che ignorante di me è questo Lo devo aprire Vabbè raga nel mirro di arco In teoria se non sono Se non sono tiltato vinco Perché faccio così Ok bello Però con gli arcieri danno un po' fastidio Quindi facciamo così La cosa brutta è che lui c'è il cycle più veloce Anche se abbiamo il cavaliere che tanca di più Non so bene di chi è sto matchup E ora abbiamo un cycle un po' brutto Perché lui se parte di arco Devo fare arco difensivo E lo faccio comunque Mi butterà la fire Ok Non c'è male per ora Facciamo così Facciamo così Un peccato lì Sta giocando bene E no eh No 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 Non va bene così No Non va mica bene Vabbè lì ha fatto una giocata un po' brutta Secondo me Qua lì l'abbiamo giocata bene No Oh vabbè Almeno Meme di Spider-Man che si punta al dito Dai qua devo buttargli a far lì Proviamo a fare così raga Non so quanto posso andare bene No Pensavo fosse un'altra cosa Ragazzi non so onestamente cosa ho sbagliato in questa partita Magari ho sbagliato proprio Ad avere sto gioco installato nel telefono E niente raga Quattro luz di fila Andiamo Let's go Viva Vabbè Ho perso quattro partite in un modo Cioè Senza sapere il perché Senza sapere il perché Però Vabbè Vabbè No raga questa si vince Questa si vince Questa si vince La mano è bassa La mano è bassa si vince Capito Facciamo così Facciamo così Andiamo di Arco Tanto Qua Arco first play Ecco Viva Macarena Eccolo col bombarolo pure Va bene A noi ci piace sto match up A noi ci piace Ci piace assai Sono davvero estasiato Sono davvero uforico Ok Potremmo anche cercare di fare qualcosa del genere Ok non ha spell pesanti Potrebbe aver solo la zap Ecco Questa è la parte In cui me lo mette In cui me lo mette Se le frecce ho straperso Vieni qua Bella Vabbè dai Vabbè dai raga Poteva andare abbastanza peggio Credo E adesso guarda la gente I commenti Sarebbe potuto andare Lo so raga Lo so Però You know You know Quando sei così Ah io ci poto un arco in difesa Mi poto pure una tesla qua Da prepotente Da bad boy Vabbè lì magari è un po' esagerato Onestamente Grazie Ah però non è morto Peccato Adesso se perdo Se perdo ora Sono davvero un pollo Vabbè qua si log Regolare Palese Vabbè raga che fai? Ve ne private? E no che non ve ne private E no che non ve ne private GG raga L'abbiamo vinta Let's go Abbiamo finalmente concluso La nostra serie di sconfitte Vai 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 Sono motivato ora Ora sono motivato Si torna sulla retta dei colli Ok siamo tornati a 1700 Raga dai Top 700 del mondo Eh dai E' carino Facciamo l'ultima Dai 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 Vamos Uh questo Questo c'ha un gigante Secondo me Buona fortuna brother Allora questo mi sa che c'ha un gigante Gigante con la strega Tutto 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 Beh qua facciamo così Ah però se ha Se ha La mongolfiera Mi spacca Perché ho buttato la tesla Male Ok no Beh io Eh facciamo così raga Io non so che Che dirvi Io sono davvero Sono davvero dispiaciuto Ah ok dovrebbe avere sparchi Eh scherzavo Ok Raga Ok Raga Ok Raga Eh vabbè però quella tornata è un po' È un po' da È un po' da Buffo Un po' da sborone Li assumiamo danni Ho preferito non buttarla a destra Perché così me la tengo per l'attacco ora Me la tengo per l'offensiva Per l'assalto Se gli zappa È un po' una capra Buttare No vabbè raga Ma di cosa stiamo parlando Di cosa stiamo parlando Cioè nel senso In senso brutto Eh no No non ce la faccio frizzare all'interno Vabbè Peccato Però la cosa buona Raga bisogna sempre vedere il lato positivo delle cose La cosa buona è che possiamo super ciclarlo C'è tutte carte pesanti Quindi Ragazzi dobbiamo essere felici Dobbiamo essere felici in questo momento Perché siamo sotto di danni Siamo sotto di alisir E stiamo perdendo E siamo tiltati Dobbiamo solo essere felici in questo caso Ecco guarda Visto Hai visto? Lui ci butta le zap ignoranti Lui mi butterà Il boia Invece non me lo butti Non me lo butti il boia Non te lo lascio buttare Vabbè io provo a fare un po' qualcosa qua Tipo così Ok Vabbè però ci sta raga Perché possiamo andare sull'altra Mi butterà il boia Eh volevi Volevi Bro sei troppo predictabile Sei troppo predictabile Sono una furia devastante Sono inarrestabile Adesso mi butterò il mago elettrico Ok no scherzavo Però non so quanto gli convenga fare così Perché poi alla lunga Alla lunga lo spacco Allora mi butterà qualcosa lì E io gli vado sull'altra Visto raga E questa è la chiave del matchup Questa è la chiave del matchup La chiave di volta Anche se in realtà Non è proprio Bellissimo Però E questo è il trucco E questo è il trucco Non ci inganna E non ci inghippo Mi butterà qualcosa lì Ok Eh il boia Quello era bello Ok Oh Peccato Avrei dovuto cercare di predictarli Però Un po' rischi Un po' rischi Oso Vabbè qua andiamo di nuovo Ok bene 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 Peccato Bene Proviamola Va bene va bene Non ci dispiace Tanto lui ci butterà Mago elettrico lì Eh può anche zappare Quello dispiace Ah peccato Non ci voglio credere Ragazzi Non ci voglio credere Ragazzi Non ci voglio credere Ragazzi Siamo Finiti Qua In questa landa desolata In preda al panico In preda alla disperazione Spredicta Non basta Per fare fuori barbari Vabbè ragazzi Io non so che dirvi Io ho giocato male Sono davvero Sono davvero dispiaciuto Vi pongo Le mie cordiali Eh Scusi A livello pubblico E Sono sterrefatto Sono sterrefatto Vabbè Rimaniamo top mille Dai Bisogna sempre vedere Il lato positivo delle cose E niente ragazzi Ci becchiamo Alla prossima Bella vis Spero che il video vi sia piaciuto E niente Ciao ciao